La prossima invece è una canzone dedicata alle piante, perché sono le uniche creature forse che non si sentono in dovere di dimostrare niente agli altri. Ed è un grande insegnamento che forse dovremmo cogliere a volte, non sentirci sempre in dovere di dimostrare qualcosa. Perché già essere molto faticoso e già concentrarsi su quello è molto difficile. La verità non si contiene e non va a sconti in nessun genere. Continuerò a fare quello che mi pare, questo è sicuro. Nell'oppurezza come ho fatto sempre digital, nell'oppurezza come ho fatto sempre digital. Io sono un alberi nel verdino comunale, io non ho niente per voi. La dimostrare è che continuo a fare quello che mi pare, questo è sicuro. Nell'oppurezza come ho fatto sempre digital, nella purezza come ho fatto sempre digital. Nell'oppurezza come ho fattoigo, quanto è per voi. Perché comunque, no, anche se ti tissueo che in te stesso, questo è sicuro. Se cercherò di concentrarmi su alcune immagini dai contorni fermi Perché le cose che abbiamo in fretta rimane un aumento all'intestazione E in ogni caso è un aumento all'intestazione Io sono gli alberi nel giardino pulare Io non ho niente per me da dimostrare E continuerò a fare quello che mi pare Questo è sicuro E la purezza come ho fatto sempre dici bene E la purezza come ho fatto sempre dici bene